Da quando vi ho portato il video nel quale vi ho spiegato la mia stesa, cioè come leggo gli tarocchi, è stata una disgrazia, ma avete scritto in non so quanti, se 70, 80, quasi un centinaio di persone chiedendomi l'impossibile, lavoro, salute, amore, il cazzo che te si frega, basta, basta! Io vi ho portato il tarocco per quello che è, vi ho portato uno strumento elevato, uno strumento che vi permette di vedere gli stati e i progressi della vostra evoluzione, del vostro cammino di correzione e voi mi chiedete del lavoro, della salute e dei soldi, mandatevene a fare in culo! E ora ve la spiego io, la truffa dei tarocchi! Amore è legge, amore sotto la volontà. La maggior parte di voi sono figli della cultura della truffa del tarocco, ok? Cultura della truffa del tarocco, che si divide in divinazione a Jodorowsky, la faccio breve. Se vi piace farvi prendere per il culo da qualcuno, che vi predice il futuro, vi presumibilmente dà dei consigli sull'amore, sul lavoro, sulla salute, fatelo, ma coi tarocchi non c'entra niente. Primo è vietato a prescindere farlo, secondo sono dei cialtroni, che usano le tecniche di dissuasione psicologica per farvi credere delle cose che voi volete sentirvi dire. Il lettore di tarocchi, tarocco, che fa? Vai tu, dice, mi ha lasciato mio marito, cosa devo fare, lo riconquisterò, tira giù le carte, in un modo o nell'altro ti dice che c'ha un'altra, in un modo o nell'altro ti darà un consiglio per riconquistarlo, e in un modo o nell'altro prenderà tempo, inventandosi la cazzata che c'è tempo sei mesi, sette mesi, otto mesi. Lavorerà di psicologia su di voi, vi dirà quello che voi vorrete sentirvi dire e vi stupirà facendovi credere di sapere cose che in realtà lui non sa, perché è una persona che ha parlantina, furbizia e soprattutto psicologia. psicologia e voi farete prendere per il culo e gli darete cento, centocinquanta, duecento, ho sentito pure dire mille euro e vi dirà che ogni mattina dovete girare il tarocco per sapere come andrà la giornata e vi farà tutti i sorrisini, tutto così, ce ne sono tanti su YouTube, su Patreon, su Instagram che ve fottono solo soldi, sono dei cialtroni che sfruttano questo mezzo per fottere voi e la vostra disperazione proponendovi una panacea inutile per i vostri mali. State lontani come l'Aiz, la pesta e il colera. Vi basti sapere che la legge del tarocco cosa dice? Che i tarocchi si leggono una volta ogni 28 giorni, perché il tarocco segue il calendario ebraico, perciò una volta che l'hai letto devi aspettare il novilunio, non durano sei mesi, sette mesi, c'hai la torre per otto mesi. L'altra grande truffa è la tecnica Jodorowsky, ma quella è più intellettuale. Io amo Jodorowsky, è un grande regista, è uno scrittore fantastico, è una persona estremamente intelligente. Ma che fa lo Jodorowskista, lo Jodorowsky? Ti sorride come fa Jodo? Ah, no! Fa il persona che sa il misterioso. Ma in realtà quando stende le carte, il seguace Jodorowsky, Jodorowsky non ti dicono niente, ti regalano solo supercazzo, perché si limitano a farti domande e si apre un colloquio. Avete presente? Jodorowsky c'è questa caratteristica, è tutto psico, psicomagia, psicosessualità, psico-tarocco, si chiama psico-supercazzola. State lontani, chiedono un pacco di soldi, quando con crepe risparmiereste. Perciò io non c'entro niente con questo mondo. Se volete parlare con me anche di tarocchi, oltre di letteratura e cultura, parliamone, ma per quello che sono, uno strumento per mettere in contatto il sé dei mondi inferiori con il sé dei mondi superiori e vedere come stanno andando le cose, punto, a livello di evoluzione e correzione del nostro cammino su questa terra. E diffidate di chi usa troppo spesso la parola cabbalà, mistiandoci insieme, buddismo, libro tibetano dei morti, fantascienza, marziani, non-dualità, sono tutti truffatori e cialtrone anche quello. Quelli che ci mettono insieme tutti i dei, i detti, i divinità, stai attento a quella divinità, sono tutti cialtroni, tutte cazzate. Ok? Se parlate con me parliamo seriamente, se no andatevi non sopra un culo. Fatevi sapere qua sotto nei commenti cosa pensate, per il resto di dire tanti like, tante iscrizioni, e noi ci vediamo alla prossima.